Siamo ormai nel pieno di questa seconda metà di febbraio del 2023 e sull'Italia domina ormai da parecchi giorni un anticiclone che ha portato giornate solleggiate, miti, ma anche foschie, nebbie e nuovamente il problema dell'inquinamento si è aggravato specie nelle zone della pianura padana. In questi ultimi giorni abbiamo avuto anche temperature molto superiori alla media del periodo sull'Italia e purtroppo si è nuovamente aggravata l'emergenza siccità. Proprio su questo fronte ci sono delle notizie positive perché sta per cambiare la circolazione atmosferica e nei prossimi giorni una perturbazione, la prima dopo parecchi giorni interesserà l'Italia, soprattutto l'Italia del nord nei primi giorni, ma poi probabilmente si estenderà anche alle altre regioni. Quindi seguiteci su ilmeteo.net per i dettagli per sapere come evolverà questa perturbazione di fine febbraio che forse finalmente porterà nuove precipitazioni sull'Italia. Grazie. 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 Grazie.